Una sala gremita per un incontro su temi profondamente sentiti dalla comunità, sanità, riorganizzazione del sistema sanitario, criticità e privatizzazione dei servizi. Il candidato sindaco Roberto Campagnolo ha promosso un incontro a cui hanno partecipato oltre a moltissimi bassanesi anche la senatrice Barbara Guidolin e la consigliera regionale Chiara Luisetto sotto accusa critica la situazione della sanità locale e la gestione della regione Veneto. La regione si sta dotando di un nuovo piano per abbattere le liste d'attesa senza però metterci un euro, mentre i vicini di casa l'Emilia Romagna mette 30 milioni di euro per un milione di prestazioni in più nel 2024 e quindi per smaltire le attese lunghe creati sì, creati sì negli anni. Noi investiamo in che cosa? In un nuovo progetto senza però mettere un euro. Anche lo stesso galleggiamento, il chiamare il cup e non ricevere risposta e attendere di venire richiamati ma nello stesso tempo non pesare sulle statistiche di eccellenza della regione, anche questo non viene cancellato dal nuovo piano, viene semplicemente cambiato il nome e diventa un pre-appuntamento. Ma la fondo della consigliera Luisetto si estende anche ai problemi in cui incapperanno i comuni del territorio in ambito sociale e socioassistenziale. Anche in questo caso alla regione Veneto viene chiesto un intervento risolutivo e concreto. I comuni saranno chiamati ad una grande sfida, ad affrontare i servizi sociali in maniera totalmente nuova e coordinata, organizzandosi con una nuova forma giuridica tutti assieme per rispondere alle fragilità delle famiglie, al tema della disabilità e dunque del dopo di noi, alle questioni relative agli anziani e a chi cerca casa o lavoro. Lo dovranno fare in maniera totalmente nuova. Questo nuovo sistema, i cosiddetti ambiti territoriali e sociali che la regione ha approvato, non è però sostenuto da adeguate risorse. Grazie.